Parliamo di commercio, parte a Carbonara l'operazione spendo e risparmio. 34 commercianti di quartiere provano a sfidare la grande distribuzione con un'iniziativa per invogliare a fare la spesa sotto casa. Roberto Maggi. Rilanciare commercio di quartiere attraverso una raccolta punti, parte a Carbonara l'operazione spendo e risparmio. 34 commercianti di diverse tipologie, dagli alimentari alla farmacia, dalla ristorazione all'abbigliamento, provano a sfidare la grande distribuzione lanciando un messaggio ai clienti. Fare la spesa sotto casa conviene e aiuta la crescita del territorio. L'iniziativa promossa dall'Associazione dei Commercianti Asks funziona come una normale raccolta punti. Ogni 10 euro di spesa si riceve un bollino, arrivati a 25 si ha il diritto a un buono da 10 euro, spendibile indistintamente in uno degli esercizi aderenti. Al cliente non resta che acquistare nel proprio quartiere nei negozi che espondono la targa in vetrina. Non abbiamo un impatto di prezzo così differente dalla grande distribuzione, anche da noi i prezzi sono molto convenienti, quindi facciamo squadra sul territorio, siamo 34 esercizi che abbiamo aderito all'iniziativa e abbiamo 34 possibilità di risparmiare. I commercianti che stanno sul territorio quindi non fanno altro che lamentarsi perché ci sono gli ipermercati, perché non si spende nel quartiere, la gente tende sempre ad andare fuori. Quindi abbiamo pensato di unire innanzitutto i commercianti tutti insieme.